La città di Irsina vive in maniera singolare l'evento della passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo. Ripercorrendo i momenti della passione di Cristo, ognuno potrà viverla nella fede e nel coinvolgimento diretto con i personaggi che metteranno in scena la Passio Cristi nello scenario suggestivo e caratteristico del Borgo Antico. Irsina in provincia di Matera, Passio Cristi nel Borgo Antico, con inizio alle ore 20, venerdì santo 30 marzo 2018.